Ciao Piera! Siamo pronti? Sì! Noi cominciamo! Marco Dornardo! Siamo un po' emozionati! È il nostro primo concertino! Ma stiamo molto felicini perché suoniamo per i ventagli di questo cittadino dell'Ibrida che ci piace tanto! Vamo! Che su? Ravimento! Vamo! 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 Che su? Vamo! 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 inutile. e... a tutti. 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 così. a tutti. 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 su. a tutti. inanimato. a tutti. 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 a tutti.